Buongiorno a tutti, sono ImettoCM2, sono in compagnia di... Lucas027 Buonasera a tutti Esattamente, siamo qui perché faremo il solito video che facciamo sempre Il nostro pronostico incredibile Attendibile al 100% Sui mondiali di turno Questa volta con le mie L'ultima volta ci ho quasi preso, eh Quasi, quasi Ok, va bene Quindi, e ovviamente niente musica Perché è la musica che se ne fa schifo da mettere in sottofondo Perché dovremmo metterla, onestamente Non si trovi d'accordo? Quella è una cosa che non serve a niente Ora inizierò io Allora, gruppo A Passerà La Nuova Zelanda E al secondo posto passerà la Norvegia Nel gruppo D L'Inghil... Non la Haiti, sì, qual è un diverso? L'Inghilterra e la Cina Nel gruppo B passano Australia E... Canada Nel gruppo C Spagna e Giappone Perché sì Nel gruppo E Stati Uniti E... Portogallo Nel gruppo F Francia e Brasile Nel gruppo G passeranno Svezia e Argentina No, secondo me l'Italia non passerà E nel gruppo H passano Germania e Corea del Sud Boa caldo Avanti Ok Ottavi di finale Io prevedo che qui passerà il Giappone Qui la Spagna Qui la Spagna Qui gli States Qui il Portogallo Qua la Cina Qui l'Inghilterra La Francia e la Germania Stati Uniti Stati Uniti Spagna Francia Inghilterra E alla fine Vanno in finale gli Stati Uniti e la Francia E vincono gli Stati Uniti E al terzo posto ci va la Spagna L'Inghilterra ci sta La Spagna Così a caso Il double o Nanananananana Sì ok Chi se ne frega Perfetto E ora ovviamente torniamo alla fase Gironi E iniziamo dal gruppo A Per te chi passa nel gruppo A come primo? Quale gruppo G invece della Svezia mettiamo l'Italia? Per te passa come primo l'Italia? No come seconda Quindi l'Argentina non passa? No no l'Argentina passa ma come prima Ok va bene E infine il gruppo H? Il Marocco invece della Corea del Sud Va bene Avanti Ok va bene quindi prima partita Tagli di finale Nuova Zelanda e Giappone Nuova Zelanda e Giappone Giappone Norvegia e Spagna? Spagna Italia e Stati Uniti? Qua non lo so Ma metto Italia Gli Stati Uniti per non lo so L'Italia ok Giappone e Italia Giappone Spagna e Portogallo Spagna Francia Francia e Inghilterra Ok Terzo Siamo in finale Spagna e Inghilterra Ok E quindi alla finale Inghilterra Ok Terzo quarto posto In Giappone Ok bene quindi per te questo qui sarà invece il coso Eh come dire C'è zuccheremo? Ne dubito fortemente L'ultima volta io ho portato in semifinale il Marocco e ci è riuscito Poi ovviamente Non so come Non so quando Ma è Ce l'ho fatta Bene noi ovviamente Ritorneremo un'altra volta per fare la previsione degli ottavi di finale E Di nuovo probabilmente per le semifinali E poi dopodiché basta Perché per i quarti Inessamente non facciamo un'altra volta Le cose perché sarebbero veramente troppe previsioni alla cazzo Quindi Diremo proprio no Faremo fase gironi Ottavi di finale Poi si torna per la semifinale Solamente per il meme Quindi direi che queste sono le previsioni Noi ci rivedremo come è detto Per gli ottavi Tra un bel po' di tempo E quindi Dai M8M2 Noi ci vediamo al prossimo video E ciao ragazzi Bye bye